Raffaello Fico, gestire 56 comuni colpiti dal terremoto più 115 fuori dal cratere è un'impresa ancora ardua, ancora oggi, a 10 anni dal terremoto, ma si può tracciare un quadro di qual è lo stato dell'arte della ricostruzione? Sì, è una situazione non semplice, estremamente complessa per la moltitudine di comuni che hanno necessità ancora di portare avanti la ricostruzione, in particolare quella privata. Se guardiamo alle due fatti specie, in particolare quella dei comuni del cratere, i 56 sono in una fase di consegna dei progetti per la ripristina e dell'agibilità delle abitazioni private a più o meno il 50%, escludendo le aree colpite anche dal sisma 2016 avremmo una percentuale più alta di circa il 70%, quindi dati positivi rispetto ai progetti depositati. Abbiamo il problema di ammettere a contributo questi progetti per vari motivi, perché il personale è dislocato in maniera non omogenea, quello degli sportelli, gli allora UTR, perché sono concentrati male rispetto alle giacenze dei progetti. E poi c'è il problema delle risposte alle richieste di integrazioni e quindi su questi due temi sto intervenendo con delle disposizioni organizzative e delle modifiche, per quanto mi compete, con dei decreti circolari che consentiranno di, semplicemente in generale, di distribuire meglio questi carichi di lavoro. Lei ha detto che avete circa un miliardo di euro da poter gestire, da poter distribuire, ma non ci si riesce. Qual è il problema? Sì, un miliardo di euro che può essere molto affrontato e attaccato nella misura in cui più di 300 milioni di euro sono di richieste di integrazioni, come dicevo, in mano ai professionisti, su cui interverremo con un accordo con gli ordini che sta per essere sancito. A questo si aggiungono i progetti che sono ancora da aprire, quindi c'è un problema di smaltire il passato. Io sto iniziando a vedere pratiche qui con il mio personale. Dottor Fico, lei è in questo ufficio praticamente da sempre, da quando ha aperto, ormai 5-6 anni fa. Che cosa vede nel destino di questi comuni? Io penso che questo miliardo di euro di progetti che potremmo approvare nel giro di un anno e mezzo, secondo me due anni, sono progetti che riporteranno l'agibilità alle prime case delle abitazioni che restano da recuperare e parallelamente, non ultimo, un grande lavoro che dovrà essere fatto nei confronti delle seconde case e del loro riutilizzo. E in questo ci vedo una grande opportunità per il territorio, alla luce anche dei fondi istanziati per lo sviluppo. Altrimenti il rischio è che saranno paesi bellissimi ma fantasma, disabitati? Sì, c'è il grosso rischio se non saremo capaci noi e il territorio intero a garantire che si occupino diversamente queste secondi abitazioni. Sì, c'è il grosso rischio che si occupano di tutti gli universitari sui fondi istanziati per lo sviluppo.